signori rifaccio un altro video sempre nei pressi qua del centro centro direzionale nei pressi il palazzo della giustizia guardate qui a terra che ci sta e non è oggi è sempre così non è solo oggi o settimana scorta è tutti i giorni da sempre guardate qua ci stanno sta all'ingresso magistrati guardate quant'era che c'è guardate cosa c'è un poliziotto che mi segue non posso riprendere se non mi arrestano non per niente dicono che non si può riprendere sono gelosi della loro non è un poliziotto e qualcuno ha detto qualche sicurezza non so che posso riprendere dietro attenzione guardate dice il cartello ingresso magistrati qualcosa del genere eccoci qua ecco qua spazzatura a terra sparato i fuochi qui hanno sparato i fuochi questo è un residuo di fuochi lascia la cittadini lasciano a terra mesi se non anni questo è il palazzo di giustizia ci troviamo qua guardate quindi qua giudicano ecco guardate qua a terra guardate qua a terra che ci sono altri fuochi residui bottiglia di plastica spazzatura di vario tipo erba alta non tagliata qua c'è un carrozzino qua i bambini nascono continuamente a Napoli hanno bisogno sempre dei carrozzini guardate terra ci sta guardate sotto il marciapiede guardate sotto il marciapiede dove stanno i tassi guardate qua a terra che ci sta tutti i giorni tutti i giorni nell'indifferenza degli indigeni locali dei napoletani locali per loro è normale avere tutta questa spazzatura signori guardate allora è tutto normale oggi è una giornata di vento quindi questa bella spazzatura di vario tipo va avanti e indietro per le strade guardare a terra che ci sta ecco qua altri fuochi cartone si fuochi non si sa come c'è no cartone così con rifiuti vari lì ci sono i nostri carcerati di voggio reale eccoci qua ecco qua stanno parlando di politica qua ci stanno i fuochi altri fuochi che hanno sparato i fuochi qualche giorno fa devono festeggiare qua festeggiano il reddito di cittadinanza signori napoletani eccoci qua li lasciano a terra eccoci qua guardate la spazzatura che ci sta a terra guardate l'erba alta mai tagliata guardate qua nelle aiule che ci sta guardate 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 qua a terra guardate eccoci qua altri fuochi rotti parati guardate la terra altri fuochi spazzatura di vario titolo guardate 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 nell'indifferenza degli indigeni locali nella strafottenza della gente che non riprendiamo ovviamente per privacy che li passano a fianco almeno cerchiamo di non riprendere ecco questo è il centro direzione di napoli la zona degradata ma da sempre così e anche altri quartieri limitrofi signori vi ho rotto le palle anche oggi con questi video perché alla gente del luogo di queste cose non piace parlare per loro la loro città è stupenda conta solo essere i primi in classifica quella è la cosa importante è avere il reddito di cittadinanza per loro è normale abbiamo fatto e anche oggi ho rotto le palle con questi video noiosi arrivederci o forse voglio far vedere anche qua dentro che ci sta aspettate aspettate guardate 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 qua che ci sta questi aiole in pieno centro direzionale guardate che ci sta è finita qua allunghiamo 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 a sette minuti quasi guardate erba mai tagliata vabbè questa è una piante un po' malgocce guardate qua questa è la bellezza del centro direzionale guardate guardate una bottiglia una bottiglia di vino là di acqua eccoci qua eccoci qua fatto fatto vedere già abbastanza arrivederci